Quando cari amici telespettatori e amici dei social sentirete questa notizia, voi resterete certamente rabbrividiti. Ve la dico subito. C'è una delibera dell'Inps, a firma del suo presidente Tito Boeri, la delibera risale a marzo del 2018, in cui praticamente l'Inps conferisce dei premi economici ai medici preposti al servizio che negano malattia ed invalidità. Pensate un po'. Infatti la delibera, e questo rientra nel discorso del piano delle performance dell'ente, infatti la delibera dice che tra i criteri di valutazione ai fini della retribuzione di risultato c'è proprio questo. I medici che ci saranno distinti per negare la malattia o l'invalidità del paziente verranno premiati, nell'ottica di dire dobbiamo ridurre le spese sociali e allora noi che cosa facciamo? Diciamo se tu medico, revochi, non riconosci le invalidità, noi ti premiamo. Un criterio delinquenziale. Quindi questa delibera del presidente Tito Boeri è la delibera di un delinquente, perché solo un delinquente può fare una cosa del genere. Uno perché sta calpestando la dignità dei malati e degli invalidi, che devono essere necessariamente sacrificati. Dall'altro sta evidentemente considerando i medici preposti al controllo delle prostitute, delle persone che si vendono e l'INPS cerca di comprare queste persone, questi medici preposti al servizio, attraverso d'azione in danaro, attraverso un premio, attraverso un incremento retributivo. Tu medico non riconosci, neghi l'invalidità e io stato, ti premio. Questo è una delibera dell'INPS. Vi rendete conto, cari amici? Ma la Costituzione, dove è andata a finire? Il diritto alla salute, dove è andato a finire? Cioè noi parliamo, pensate a un invalido, pensate a una persona che ha una problematica seria e si deve sentire questa notizia, cioè dire ci sono dei carnefici, dei boia che mi devono uccidere, che mi devono negare il diritto ad un'assistenza perché in cambio lo Stato, l'INPS, sta dando soldi a quei medici carnefici che devono appunto far finta di non vedere la mia malattia. Questo è l'assurdo. Pensate come vengono schiaffeggiati in Italia gli invalidi. Dimentichiamo i disagi degli invalidi che aspettano lunghi tempi per vedere riconosciuta l'invalidità e che peraltro c'è un'indennità di invalidità abbastanza ridotta, minima. Pensate a un invalido al 100% con accompagnamento che prende un cionco in un letto magari, cionco è un'espressione dialettale tarantina, vuol dire completamente paralizzato in un letto, che percepisce 700 euro al mese, 600-700 euro al mese, non sono sufficienti neanche a pagare un abbadante, neanche, perché qui si parla di assistenza H24. Ma al di là di questo, i servizi sanitari che mancano nel nostro Paese, quindi a maggior ragione per gli invalidi, ora ci sentiamo dire che dobbiamo tagliare i costi dell'invalidità. Ha fatto bene il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici che guida i 350 mila camici bianchi a usare termini duri, infatti ha dichiarato che questo incentivo, se confermato, è una aberrazione per la professione medica e segna nel tradimento, come detto, di principi costituzionali. I medici non ne tengano conto, quindi un invito alla disobbedienza e quindi dinanzi a questa aberrazione bisogna essere contrari. Si tratta di qualcosa di assurdo, perché viola la Costituzione, viola il principio di eguaglianza nella sua accezione sostanziale, perché si dice che lo Stato deve mettere a disposizione quegli strumenti affinché si verifichi l'uguaglianza, si realizzi il principio di uguaglianza. Quindi io Stato devo aiutare, devo contribuire per far sì che effettivamente anche l'invalido sia uguale agli altri. Quindi non solo in Italia, come detto, il principio costituzionale dell'uguaglianza formale, ma anche quello sostanziale. Qui invece si dice no, tu sei sofferente e io me ne frego della tua sofferenza perché taglio quell'aiuto che riuscirebbe, non dico a colmare il gap, ma comunque a ridurlo. Senza poi dire che si crea qui, si apre tutto un vortice di contenziosi, perché giustamente il cittadino, l'ammalato, l'invalido che ha visto respinta la propria domanda da questi medici che l'Inps vorrebbe appunto vedere venduti, il cittadino fa ricorso e quindi si apre un contenzioso anche con spese esose per lo Stato. Insomma, si può chiedere ai medici di essere più efficienti sotto gli aspetti gestionali, operativi, si può chiedere al medico giustamente di essere più attenti nel riconoscere appunto la vera invalidità invece dalla invalidità falsa, perché ci sono i falsi invalidi, perché ci sono i falsi malati, perché c'è chi marcia ed è giusto aprire gli occhi ed è giusto dire ai medici attenzione, siate fermi, siate decisi, siate drastici nell'individuare il vero malato dal falso malato. Quindi non siate compiacenti, ma da qui a dire che se tu mi revochi l'invalidità o mi neghi la malattia io ti premio, beh questo è un incentivo a delinquere. Significa che il medico senza scrupoli può anche dire, ma sì, ora c'è un bel aumento, che me ne frega del malato? Cioè ci rendiamo conto? L'aspetto più grave è che l'Inps pensa che le persone, non solo pensa che le persone si possano calpestare, visto che calpesta gli invalidi, ma altre si pensa che i medici siano delle prostitute che appunto in cambio di qualche migliaia di euro in più si vende. Bene ha fatto l'ordine dei medici. Ora non so al momento come si è evoluta questa disposizione criminale da parte dell'Inps, però comunque vada a finire. Magari questa disposizione, questa determina potrebbe anche essere così cassata, modificata, ma già il principio stesso di calpestare il malato e di considerare il medico una prostituta è vergognoso. Per questo il presidente dell'Inps, Tito Boeri, visto che la delibera è a sua firma, andrebbe cacciato. Ma io lo caccerei, appedate nel sedere, perché questo merita chi offende i malati, chi denigra e chi calpesta la speranza di chi vuole una vita non normale, ma con delle sofferenze ridotte. Vergogna, dottor Boeri. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.